Abbiamo visto che negli Stati Uniti stanno adottando una procedura che a me onestamente sembra efficace, quella della riduzione a 5 giorni, la stavo leggendo in dettaglio prima quindi non vorrei dire cose inesatte, però anche qui seguiamo la scienza, la scienza sta cominciando a esprimersi, alcuni paesi stanno cominciando a mettere in atto, vediamo le best practices internazionali e proviamo ad adattarle, perché quando si dice se manteniamo queste regole con il tasso di contagi fra un po' saremo nei fatti tutti in quarantena, non si dice una cosa troppo lontana dalla verità, quindi cerchiamo di ascoltare la scienza più che altri e vediamo se possiamo adattare le regole alla nuova situazione, ripeto, basandosi sulla scienza e sull'esperienza di altri paesi, possibilmente esperienza già di successo.